Ciao, benvenuti. Nella mia carriera ho incontrato spesso persone che si sentivano demotivate e sopraffatte perché non stavano raggiungendo risultati importanti nella loro vita o comunque pensavano di non poter cambiare in alcun modo le sorti del proprio destino. Domandati se anche tu oggi hai ma soprattutto sei ciò che ti rende felice o al contrario ci sono aree della tua vita che vorresti cambiare o migliorare perché oggi non sono fonte di soddisfazione. Magari si tratta di dover prendere una decisione importante ma non sai a chi rivolgerti oppure ti trovi in un momento di difficoltà a causa di un insuccesso, di una perdita e quindi senti la necessità di avere accanto un coach, un coach che ti possa in qualche modo aiutare a cercare e a trovare quelle risposte che stai cercando per l'appunto e soprattutto a suggerirti quelle strategie che oggi in qualche modo ti stanno sfuggendo. Per chi non mi conosce io sono Stefania Scuteri, sono un coach professionista, sono una psicologa e grazie alla mia esperienza passata e presente all'interno di organizzazioni come consulente aziendale ma poi anche come responsabile delle risorse umane posso aiutarti a vivere la vita che hai sempre desiderato. Come? Liberando il tuo potenziale e stimolandoti a sostituire tutte quelle convinzioni e quelle abitudini depotenzianti e limitanti che fino ad oggi ti hanno impedito di raggiungere i tuoi obiettivi. Riuscirai a riconnetterti con i tuoi valori affinché questi tuoi stessi valori si possano allineare a quelli che sono i tuoi obiettivi e a quel punto riuscirai a trasformarli in risultati straordinari. Sappi che a nessuno piace rimanere bloccato, tutti noi abbiamo bisogno di nutrire la nostra anima con una crescita continua imparando nuovi modi di pensare e nuovi modi di fare le cose. Utilizza anche tu un tuo disagio, un tuo malessere affinché possa diventare il tuo alleato più forte, quell'alleato che ti servirà per ripartire ma soprattutto per ripartire da te. Non importa dove tu oggi ti trovi, è importante la direzione che tu sceglierai, quello che sarà il tuo percorso di crescita e di rinnovamento personale. Mentre rifletti su quello che ti ho appena detto vorrei proporti una lettura. Si tratta di uno di tre ebook che fanno parte della colana stress, saper trovare risposte efficaci senza subirlo. In questo ebook ti suggerisco consigli molto pratici su come gestire persone difficili, persone che rappresentano mediamente il 10 per cento delle nostre conoscenze abituali ma che poi ci procurano il 50 per cento dei nostri problemi, impedendoci spesso di raggiungere i nostri obiettivi. Imparerai a conoscerne le caratteristiche distintive ma soprattutto gli antidoti per disinnescarne i comportamenti distruttivi. All'interno del mio sito troverai poi informazioni su chi sono, su quali sono i percorsi di formazione e di coaching che propongo, oltre al mio metodo di lavoro e tante informazioni e articoli molto utili sulla crescita personale. Scarica gratuitamente il mio primo ebook e fammi sapere se vorrai se ti sarà stato utile. Lo potrei fare inviandomi una mail o telefonandomi per prendere un appuntamento ovviamente senza impegno. Se vorrai ricevere ulteriori informazioni sulla mia storia personale a breve posterò un ulteriore video in cui troverai tutte le informazioni nei minimi dettagli. Per ora ti auguro buona vita e soprattutto mi auguro di incontrarti presto perché avrai deciso di ripartire, di ripartire da te.